Un nuovo ritrovamento ha visto protagonista la spiaggia del Fusaro a Bacoli. Mentre erano in corso alcuni lavori di manutenzione e restauro del complesso immobiliare ex colonia Marina Lorenzo Pasquinelli, il geometra Vincenzo Lamarca, della ditta DMD, ha portato all'attenzione dei suoi collaboratori la presenza di alcuni oggetti misti alla sabbia. È possibile che si tratti di proiettili dalla lunghezza di circa 50 cm, risalenti alla Seconda Guerra Mondiale. Era in corso un saggio archeologico prescritto dalla sovrintendenza e nel corso di questo saggio, presente dall'archeologo e alcuni nostri operai, hanno rinvenuto a circa 50 cm di profondità nella sabbia questi tre proiettili. Credo che siano della Seconda Guerra Mondiale, sembra che siano americani, poi adesso meglio li identificherà l'esercito che interverrà per la rimozione. La scoperta non ha determinato un particolare scalpore, dato che solo un mese fa nella stessa zona la spiaggia aveva restituito una bomba a mano. L'oggetto al tempo, ritenuto potenzialmente pericoloso, richiese l'intervento degli artificieri. Questa volta il materiale ritrovato è di tutt'altra entità e non dovrebbe richiedere particolari interventi, anche se mette a rischio il proseguimento delle operazioni. Per motivi di sicurezza è stata comunque interdetta la zona allo scavo, dove gli artificieri provvederanno alle operazioni di sminamento dell'area. Ci dicevano, ma anche per altre esperienze personali, che qui durante la Seconda Guerra Mondiale, quando sbarcarono gli americani, c'erano alcune postazioni di contraerea, tra cui Capomiseno, Licola, per cui fu un oggetto di sgombero e poi sono rimasti i proiettili e quant'altro. Insomma, perché ogni tanto nella zona si ritrovano questi ordigni ancora. E da chiedersi se l'area all'interno del parco quarantennale in via Cavitiello non riserve altre sorprese e se sì, di che genere. La località è stata infatti in passato luogo interessato da operazioni militari, come ci conferma il geometra che ha effettuato la scoperta. Per quanto mi dicono i proiettili no, perché dovrebbero ricevere un grosso colpo o cose del genere, insomma, per cui non dovrebbero essere pericolosi, perché non sono un esperto. Però, sentite i militari, vanno rimossi sicuramente e portati via, questo senza ombra di dubbio. Grazie. Grazie.